musica 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 Siamo in Arendt. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So this is very salty, fatty, a lot of herbs, some spices, very soft, very moist. There's a lot of sauce in it. We can go to another coffee shop. We can go to another coffee shop, Namaste. We can set down. I want to go to another coffee shop. We can go to another coffee shop. And the ingredients. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 buon appetito 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 buon appetito